Oh, piove! È un temporale! E adesso come faccio a tornare indietro? Aiuto! Forza, Gohan! Cerca di resistere! In fondo si tratta solo di un temporale! Aiuto! Sta entrando acqua! Forza, Gohan! Ma tutto bene! Tutto bene! Devo resistere! Ce la farai, vedrai! Tu sei forza, Gohan! Devi farcela! Quei dannato, moccioso! Ma dove si sarà cacciato? Aiuto! Aiuto! Oh, no! Che ne sarà dell'allenamento di Gohan con Junior? Si sono forse dimenticati dell'importante missione che devono compiere per salvare la Terra? Mancano soltanto otto mesi all'arrivo dei Saiyan.